sono gero natale e roberta di padua uomini e donne a tenere l'interesse dei telespettatori acceso durante la nuova puntata sebbene il primo annoi molti di loro inaspettatamente riesce comunque a ritagliarsi un posto da protagonista nel programma proprio per questo infatti gero tende ad affascinare il pubblico in quanto c'è la curiosità di capire cosa gli passa per la testa cercano di capirlo anche tina cipollari e gianni sperti sempre più curiosi di scoprire le nuove svolte nel suo percorso nel dating show ma davvero gira un'aria strana dentro questo studio così interviene tina quando scopre che gero vuole chiudere con claudia c dopo solo un'uscita l'opinionista si riferisce alla rivolta contro i cavalieri entrata nel vivo nella puntata andata in onda ieri claudia spiega che gero ha preso la decisione di chiudere la conoscenza quando ha saputo che ha una figlia dice che ha problemi con le donne che hanno un passato fa sapere in studio la nuova dama tina prende la palla al balzo per fare ironia su gero a uomini e donne consigliandogli di andare a trovare una compagna in convento a questo punto natale spiega cosa cerca non ho detto senza passato ma senza un vissuto più importante rispetto al mio sì non vorrei una donna che ha dei figli ho avuto quattro relazioni di cui una durata nove anni e mezzo dopo questa storia non ho provato più quelle emozioni non è facile certo se poi scende una persona che mi prende subito non guardo più niente gianni sperti cerca di far riflettere il misterioso cavaliere facendogli notare che avere un figlio è un valore aggiunto non una pecca l'opinionista crede che gero abbia dei paletti mentali e che stia mandando avanti questo percorso con razionalità avendo studiato a tavolino la donna che vorrebbe al suo fianco arriva in studio intanto luna una donna che vorrebbe conoscerlo ebbene neanche questa ragazza riesce a conquistarlo tanto che decide di non iniziare alcuna conoscenza con lei sebbene abbia un carattere abbastanza particola ed enigmatico gero conquista la scena su twitter il suo nome è in tendenza ed è ormai un volto di punta di questa nuova edizione è ormai un volto di punta di punta di punta di punta di punta di punta di punta